Roberto Ferrara, candidato per il Movimento 5 Stelle come sindaco di Alghero, una bella emozione? Beh, decisamente sì, è una grande emozione quella di poter rappresentare il Movimento 5 Stelle ad Alghero, essere il candidato sindaco. È un percorso che è stato lungo, sono cinque anni Consiglio Comunale come Consigliere Comunale e adesso abbiamo l'opportunità di ripresentarci ad Alghero con il simbolo del Movimento 5 Stelle e con una bella squadra a mio fianco. C'è stato l'annuncio, poi sabato il primo bagno di folla a Sassari, un incontro molto bello perché ha visto tutte le anime del Movimento dal profondo sud al nord dell'isola uniti in Umasara. Esattamente, sabato è stata la presentazione del candidato sindaco di Sassari, Mario Murro, la mia presentazione, e diciamo una bella giornata, una chiacchierata, un approfondimento con i sindaci 5 Stelle della Sardegna che vanno da Senni a Carboni a Dorgali, Senni a Porto Torras. È stato un bellissimo momento dove tanti amici, tanti compagni di battaglia di lunga data, ricordiamo che siamo anni e anni sul territorio, è stato un bellissimo incontro e c'è la possibilità di rivederci, di incontrarci, di cambiare chiacchiere, consigli, è stato un supporto morale forte per tutti noi. E' davanti a Sassari, quindi c'è stata soprattutto la conferenza stampa di Murillo Murro, adesso ci si aspetta un incontro anche ad Alghero. Assolutamente sì, noi l'incontro ad Alghero lo faremo ad aprile, lo faremo per presentare la squadra dei consiglieri che si presenteranno alle elezioni, lo faremo sempre con l'aiuto e l'appoggio di tutto il Movimento 5 Stelle Sardo, verranno quindi i parlamentari, verranno i sindaci delle città, verranno i consiglieri di giurale. Ci è già arrivato un ruolo? Il 28 di aprile. Non sappiamo ancora dove. Ma guarda, io ho pensato di farlo al chiosso di San Francesco, nella sala di questo San Francesco, ma ancora è stato da definire. C'è stata già una tua prima uscita ufficiale da candidato sindaco, nella giornata di domenica avete incontrato i commercianti. Abbiamo fatto, in questo periodo continuiamo di fare tutta una serie di incontri con le categorie e le associazioni. Domenica con noi c'è l'alleno parlamentare Ignazio Corrao, che a livello europeo si occupa, tra le varie, anche del settore commercio. Sappiamo bene quanto l'Europa ha ben inciso nel mondo del commercio negli ultimi vent'anni con la delittiva Volkenstein e i suoi derivati dalle leggi italiane in seguito. È stato un bel incontro, abbiamo parlato, chiacchierato. Per noi era soprattutto necessario ascoltare, ascoltare perché sono quelle problematiche del commercio in città, per fare delle proposte che possano aiutare i commercianti nella loro attività. Sappiamo oggi che il settore commercio è in forte crisi, dovuto sia a internet che alla quadridistribuzione. Ebbene, noi vogliamo che il commercio in dettaglio, il piccolo commercio algerese, possa rinascere, possa avere l'infamità. Quindi cerchiamo di fare delle proposte anche per tutelare, per venire in conto alle loro esigenze. Una delle leve economiche del Movimento 5 Stelle è il reddito di cittadinanza. Nella nuova sede del comitato per Roberto Fernando, sindaco di Alghero, ci sono anche le persone apte a dare le informazioni. In questa fase si parla molto di cittadinanza e si sa poco. Quindi abbiamo colto l'occasione di avere un luogo stabile per questo periodo dove poter dare informazioni ai cittadini. E così lì, il mercoledì e il mercoledì, il pomeriggio dalle 4 alle 6, c'è una persona preposta, preparata, per dare informazioni ai cittadini. Diamo un'occhiata adesso a quelli che potrebbero essere i tuoi competitor. A maggio, il Movimento 5 Stelle ha già indicato il suo candidato sindaco nelle coalizioni centro-destra e centro-sinistra, ancora si capisce poco. Beh, sappiamo benissimo come funziona. Noi abbiamo una lista, chiediamo la certificazione e di fatto siamo pronti a partire. Le altre coalizioni invece si scontrano contro dei poteri interni per arrivare al primato della coalizione e spesso e volentieri arriviamo, assistiamo a una scelta all'ultimo minuto che ha detto al sindaco, figlio di un equilibrio partitico-politico che è veramente lontano. Cinque anni fa, eri in lista come consigliere comunale, cosa ti aspetti di diverso in questa campagna rispetto a quelle di cinque anni fa e cosa porti del tuo bagaglio in questa candidatura? Beh, io la campagna rispetto a cinque anni fa penso che sia, forse non cambierà di molto, nel senso che anche nella scorsa elezione eravamo una singola lista che combatteva contro due forti coalizioni. Quest'anno penso che forse sarà la stessa cosa, quindi non penso che cambierà molto. Mi porto un bagaglio di esperienze, cinque anni, sono stati cinque anni che ci hanno potuto conoscere in maniera approfondita come funziona la matica politica-administrativa del Comune e ci hanno potuto anche conoscere in maniera più approfondita quelle che sono le dinamiche interne alla gestione. Quindi insomma, mi sento arricchito sicuramente rispetto a cinque anni fa e parto con la stessa voglia e vigore.